Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear the dream in the ocean? Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi anche oggi in tempo reale il nuovo Fortbyte numero 62 ci dice di utilizzare il costume Stratus, quello che sto... Ah! Ho sbagliato non ho lo Stratus! O lo Stratus? No il costume Stratus! Mi sembrava una tizia! Quello con il cappuccio, quello che è il coso della tempesta e trovarlo in un maniero abbandonato Beh ragazzi basta semplicemente entrare come state vedendo nella casa dei supereroi raccoglierlo e quindi portarcelo a casa Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live tra poco! Ciao! Ciao!